Illustriamo la nostra nuova macchina della panna. Aprendo lo sportello si accede al vano frigo dove è conservata la panna a temperatura positiva. Questo è il tubo di aspirazione che convoglia la panna dentro la nuova pompa rotativa ad alta pressione. Dopo di cui viene erogata nella parte anteriore. Qui abbiamo il display completamente digitale dove possiamo erogare la panna in modo continuo o temporizzato. Accedendo al menu si può impostare le varie temporizzazioni. Possiamo anche cambiare lingua da italiano ad inglese per le istruzioni e abbiamo altri comandi della macchina. Ora vi farò vedere l'erogazione temporizzata della panna. Come potete vedere la panna esce soffice ma possiamo regolare anche il tipo di panna con un semplice gesto all'interno della pompa rotativa spostando una leva. Se vogliamo erogare la panna in modo continuo questo è il modo per avere una panna sia fresca che vegetale. Non ci sono problemi. La macchina non si inceppa mai non ha problemi di occlusione nelle varie parti ed ha un lavaggio automatico. QFrozen è la macchina rivoluzionaria per la panna. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.